Partita la 31esima edizione del meeting per l'amicizia fra i popoli, 135 gli incontri in calendario, 19 gli spettacoli, 8 le mostre, 16 le manifestazioni sportive, 346 i relatori che interverranno alla manifestazione, migliaia i volontari all'interno della fiera di Rimini trasformata per l'occasione in luogo di incontri e disposizioni, 170.000 metri quadrati degli spazi coperti occupati dalla manifestazione. Dopo il successo di pubblico della scorsa edizione sentiamo il microfono di Simona Angela Gallo, Emilia Guarnieri, presidente del meeting. L'emozione è quella di rivedere ancora tanta gente desiderosa di esprimere la propria passione per l'ideale, questi sono i volontari che sono qua a lavorare ma questo è anche già tutto il pubblico che è affluito, è veramente incredibile vedere un popolo così. Ci sarà anche un grande spettacolo inaugurale che è quello del Caligola, poi seguiranno una serie di eventi importanti. Certo Caligola, l'imperatore che desidera l'impossibile, che vuole che gli sia portata la luna e che impazzisce, una grande provocazione per questo inizio di meeting sul desiderio. E poi un grande cartellone con Leopardi, con Chopin, con la Maria Iudina, col cinema, con i registi, con Giannini che leggerà Leopardi, con uno spettacolo di samba, insomma ce ne sarà per tutti, gusti?